eccoci qui come è stato un saluto a tutti ben ritrovati vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte attivate la campanella sul logo di Milanello Live mi raccomando seguiteci anche su Instagram la mia pagina è quella di Milanello e iscrivetevi al mio canale personale vi metto qui sotto il link non solo per collaborazioni commerciali sponsorizzare la vostra idea il vostro marchio il vostro prodotto la vostra pagina la vostra azienda scrivete una mail a milanellolive.com commentate sempre con civiltà e rispetto e lo dico subito è un momento ci sono stati momenti belli 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 di grande armonia sono momenti invece in cui siamo divisi ci può stare momenti in cui siamo divisi e ci sono dei colpi bassi da una parte all'altra questa cosa sinceramente a me non piace voglio che si mantenga sempre la serenità nel giudizio la serenità nel accettare anche un parere diverso dal nostro e senza prendere in giro nessuno perché poi chi va oltre viene bannato ed è anche sciocco perché se vuole scrivere un'altra volta non può più scrivere ecco ad esempio certe prese in giro anche nei confronti di colleghi che abbiamo ospitato qui e che non meritano certe prese per i fondelli ecco una cosa io la pretendo e chi non sta bene non viene più qui andiamo avanti comunque cioè accettare il parere degli altri se uno di voi mi scrive io Pioli lo confermerei non gli dico vergognati o dell'altro o anche peggio dico beh io non lo confermerei però rispetto se io dico che Pioli non lo confermerei se non sei d'accordo dimmi non son d'accordo non andare con i colpi bassi a offendere a prendere in giro perché così non si va avanti quindi lo stabilisco adesso tra l'altro siamo nella community rossonera quindi a parte qualche intruso con tutti i rossoneri ma se non riusciamo ad andare da muore d'accordo tra di noi allora c'è un problema ecco in generale quindi capisco che la stagione non stia dando tante soddisfazioni ci aspettava qualcosa diverso ci sono degli elementi dei temi che dividono perché è evidente che tanti temi dividono la proprietà la dirigenza l'allenatore i giocatori però dividono nel giudizio ma non nell'armonia armonia è una parola così bella riempie la casa armonia serenità cerchiamo di portarla avanti quindi poi dice perché rispondi perché non sono due o tre sono tanti rispondo per questo intendiamoci l'italiano è uno e uno solo non lo dico a tutti ovviamente a pochi che fanno apposta probabilmente o non capiscono proprio allora facciamo un po' il punto Luca Momblano che ho ospitato ci racconta che Antonio Conte ha l'accordo con Zlatan Ibrahimović ok con Zlatan Ibrahimović non ha firmato perché qualcuno dice ha detto che ha firmato no quindi non mettete in bocca parole che non ha detto dopodiché Furlani vuole Tiago Motta e Moncada ha incontrato due settimane sono Lopetegui ok questa è la situazione non significa che al 100% arriverà Conte e al 100% quello che ci dice Momblano ha l'accordo con Ibrahimović bisogna vedere se la spunta lui dopodiché ieri ho raccontato e raccolto le dichiarazioni di Scaroni che dice sempre più fiducia se i risultati arrivano abbiamo sempre più fiducia in Pioli ok non significa che Pioli resta e quindi non significa che non arriva Conte o qualcun altro significa che è una dichiarazione che va presa detto che Scaroni non ha voci in capitolo sulla scelta dell'allenatore lo precisiamo una dichiarazione anche obbligata benvenga che l'abbia detto perché è giusto che in questo momento dica così ma è una partita da giocare cioè basta che uno dice una cosa allora resta Pioli no non è così basta che uno dice allora hai detto che ha firmato Conte non è così quindi cerchiamo di viverla serenamente caspita se no ripeto tolgo i commenti come fanno altri vivo sereno non vedo chi prende in giro chi mi mette in bocca parole che non ho detto eccetera 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 Conte avete annunciato Conte no non abbiamo annunciato Conte il mio collega che ho ospitato ha annunciato l'accordo tra Ibra e Conte non ha parlato di firma e io spero che possa prevalere quella cosa lì detto questo ecco dobbiamo però andare avanti con chiarezza non noi ovviamente anche noi ma soprattutto da quella parte lì ora vi spiego perché intanto diciamo una cosa il mio parere rispettabile condivisibile sì oppure no il mio parere se volete facciamo anche un sondaggio il mio parere è che in ogni caso finisca bene speriamo o non finisca benissimo speriamo di no in estate secondo me bisognerà separarsi con Pioli è il mio parere perché secondo me il ciclo è finito ok andare avanti il prossimo anno trascineresti un po' la cosa ma non significa criticare Pioli se io ho detto ieri questa cosa qui dice anche quando vince Milan critichi Pioli no a Pioli ho dato mi sembra 6 e mezzo in pagella e il mio parere non cambia cioè non può essere tutto figlio di una partita vinci con Napoli 1 a 0 allora Pioli deve rimanere per me no per me no per te sì ben venga vedremo poi che cosa decideranno però non è una partita vinta poi si può essere contenti oppure no personalmente non sono contento della stagione del Milan siamo terzi in campionato abbiamo subito più del doppio dei gol dell'Inter 4 gol in più dell'Atalanta 5 gol in più del Bologna Bologna abbiamo avuto 34 infortuni con quello di Calabria 34 infortuni cioè adesso sembra che ci siamo dimenticati anche quello che abbiamo dovuto sopportare per mesi cioè ogni partita 2 che saltavano barra 3 ve lo ricordate? no non tutti qualcuno se l'è già dimenticato e 2 anni fa era più o meno la stessa cosa un po' meno quest'anno è stato peggio 3 anni fa era ancora quella cosa lì un po' meno quest'anno è stato peggio la probabilità è che anche il prossimo anno possa essere così però va bene tutto eh io rispetto io non mi dimentico dei 34 infortuni a stagione neanche conclusa del fatto che siamo fuori dal discorso scudetto dal novembre barra dicembre che siamo fuori dalla Coppa Italia per il secondo anno di fila subito io non me lo dimentico poi spero di poter vincere Europa League una cosa non esclude l'altra perché per me questa rosa è forte è una squadra forte il Minas se li ha tutti a disposizione e secondo me con un allenatore a inizio ciclo e non a fine ciclo avrebbe potuto lottare per lo scudetto con un pioli così spieghiamo eh qui non si può malinterpretare con un pioli a inizio ciclo avrebbe lottato per lo scudetto fino alla fine di questa stagione con un pioli a fine ciclo no e però dice è uno dei migliori per rendimento eccetera eccetera ragazzi abbiamo cambiato capello abbiamo cambiato Ancelotti altrimenti l'abbiamo dovuto tenere Ancelotti o Cappello a vita o Sacchi no perché poi alla fine i cicli arrivano ad esaurimento ma è il mio parere io non sono contento di questa stagione io ambisco a molto di più di accontentarmi che comunque ho gli stessi punti più o meno forse qualcosa di più ho perso il conto dell'anno dello scudetto non ci dà nulla questa cosa qui non ci dà esattamente nulla perché è anche un anno diverso e in quell'anno tra l'altro non è che avessimo fino a questo momento un rendimento stratosferico in questo periodo eravamo ancora sotto all'Inter poi abbiamo fatto un rush finale pazzesco non è dato a sapersi se lo facciamo anche quest'anno ma quella stagione è diventata fantastica grazie al rush finale non grazie a dove ci trovavamo a metà febbraio e sono stagioni diverse quella stagione siccome era anche un po' più complicata avevamo anche un attore che era inizio ciclo adesso no ci sono squadre che hanno fatto anche molto meglio di noi l'Inter ha 8 punti in più con una partita in meno quell'Inter non aveva così tanti punti in più ci sono squadre quest'anno molto più abbordabili rispetto a quell'anno lì quindi fare il giochino però ha gli stessi punti va bene allora siccome abbiamo gli stessi punti dell'anno dello scudetto significa che vinciamo lo scudetto no non significa questo e allora teniamo perché tiene sempre questa miglia ci va bene arrivare sempre magari i terzi se qualcuno fa sempre meglio di noi uscire dalla Coppa Italia secondo anno di fila avere 34 infortuni a metà febbraio a meno poi se qualcuno pensa diversamente io lo rispetto lungi da me andare a mettere il dito nell'occhio metaforicamente parlando però una cosa la voglio dire quindi è una partita da giocare vediamo un po' che cosa succede personalmente sapete io mi auguro che possa prevalere l'accordo Ibra-Conte Ibra-Conte su questo apparato buffon che a me non sta simpatico però è un uomo di campo che cosa dice il primo tra le gioie bianconere il primo scudetto con Conte fu una cavalcata magica lo considero lo scudetto della tenacia lui era come un elettroshock grazie al suo essere carismatico e al suo essere leader ci ha scosso insegnandoci un gioco differente poteva essere un punto interrogativo perché in quel momento non aveva grandissima esperienza da allenatore ma fu molto bravo nel convincerci con le sue proposte di gioco venivamo da due settimi posti ma io ero sicuro che saremmo arrivati tra le prime due in classifica il Milan quell'anno era più forte di noi ma certe cose le percepisci subito quindi lo descrive come un effetto una terapia d'urto un effetto shock un elettroshock che secondo me è quello di cui avrebbe bisogno il Milan per colmare dei gap anche a livello dirigenziale che ci sono evidentemente oggi una cosa però la voglio dire ulteriormente mi sono un po' arrabbiato però ripeto se poi uno continua offende il collega viene bannato non scriverà mai più su Milanello è anche un po' peggio per lui se invece critica va bene lo faccia però in maniera rispettosa se c'è rispetto e civiltà io accetto tutto perché poi ho detto questa cosa l'altro giorno e qualcuno scrive ah se non accetti le critiche però no le accetto le critiche ma non le offese le prese per i fondelli dopo questa volta prometto che non farò più un appunto del genere nel caso provvedo io diversamente detto questo perché magari c'è chi fa apposta magari qualcuno è anche intruso chissà detto questo bisogna però avere le idee chiare siamo a metà febbraio le squadre si costruiscono in questo periodo qui purtroppo sottolino purtroppo lo evidenzio va detto una cosa che noi oggi non sappiamo ancora a metà febbraio chi sarà il nostro allenatore alla prossima stagione se non sai l'allenatore vediamo anche se può cambiare qualcosa a livello dirigenziale se non sai comunque l'allenatore non sai il modulo non sai le necessità non hai potuto fare confronti e non puoi allestire una rosa che possa essere più possibile immagine somiglianza dell'allenatore per questo dico facciamo in fretta dalle altre parti purtroppo notizia delle ultime ore ieri ha fatto le visite con l'Inter Zienlinski che è un ottimo parametro a zero zero esperienza tecnica quota goal è un'operazione che siccome sarebbe servita anche a noi mi sembra che oggi faccia le visite mediche anche Taremi che ha finito la Coppa d'Asia quindi due parametri zero poi ci sono commissioni in gaggio non sono 0-0 ma non sono neanche 20-30 Taremi è comunque un attaccante che noi Milan voleva arriva a parametro zero e va comunque a fare l'alternativa in un reparto quello d'attacco che ha già delle ottime risorse loro quindi ecco non perdiamo troppo tempo siccome non bisogna arrivare a metà maggio e dire bene Milan in classifica siamo arrivati così è successo questo questo e quest'altro cosa facciamo confermiamo cambiamo secondo me questa è una scelta una decisione forte sottolineo lo metterò anche nel titolo decisione forte che va presa al massimo entro un mesetto cioè secondo me a Milan si deve dare un ultimato un metà marzo il discorso Champions non è in discussione purtroppo lo scudetto è troppo lontano in campionato può arrivare secondo sarebbe meglio che arrivare terzi per carità però non è un trofeo a casa mia c'è l'Europa League però secondo me non puoi aspettare fine maggio non mi ricordo quando è la finale Europa League adesso ve lo dico subito per fare la tua scelta in un senso o nell'altro finale Europa League è il 22 maggio non puoi arrivare al 22 maggio sei perché noi nelle ultime stagioni abbiamo avuto spesso questo ostacolo qui un anno perché Maldini e Massara avevano rinnovato l'ultimissimo era forse fine giugno più o meno credo di sì l'altro anno perché hai cambiato dirigenza ecco speriamo questa volta che abbiamo imparato la lezione e che questa decisione forte venga presa entro un mesetto non di più perché le squadre si devono iniziare a costruire in questo periodo ci sono le occasioni ci sono i movimenti e strategie che già condividi personalmente spero di vincere l'Europa League ma cambierei comunque Pioli e non è una critica è una considerazione rispetto chi dice il contrario però secondo me è un po' figlio del momento il momento positivo allora ha guai poi però in questo momento positivo abbiamo pareggiato 2-2 con la Salernitana il pareggio con il Bologna è figlio di due rigori sbagliati quindi in quel caso Pioli possiamo magari toglierlo però in generale il Milan sta facendo il suo dovere cioè se batte questo Napoli fa il suo dovere se batte questa Roma quella Roma lì soprattutto fa il suo dovere fare di più significherebbe andare a vincere l'Europa League però per me non basterebbe perché l'anno prossimo ci troveremo secondo me da punto a capo con infortuni periodi negli ultimi due anni il Milan ha avuto un paio di crisi profonde ogni anno ogni anno almeno una crisi profonda lo scorso anno a gennaio e febbraio quest'anno più o meno novembre quando abbiamo fatto due punti in quattro partite tra Salernitana Juve Napoli e Lecce quindi sta diventando una regolarità infortuni crisi e qualcuno da Milanello mi dice che si fa fatica magari a seguirlo come si faceva al secondo anno o al primo ma questo è fisiologico ho detto tutto in italiano chiaro barra controlliamo sì non è interpretabile patti chiara amicizia lunga ripeto decisione forte che va presa presto di Conte secondo me quella frase di Buffon fa capire anche tanto il Milan in quell'anno era più forte poi c'è stato il gol di Muntari per carità ma quell'anno Conte fa un'impresa complice anche il gol di Muntari gli altri sono avanti perché hanno fatto due parametri zero e noi non sappiamo chi sarà il nostro tecnico quindi secondo me un mese dentro o fuori per me fuori leggerò i vostri commenti iscrivetevi per collaborazioni milanellolive che ho c'è la gmail.com lasciate un bel like e commentate numerosi mi raccomando iscrivetevi un abbraccio